I nuovi progetti di Giulia Dell'Elisee di Vanka Mrazova Ritorniamo a parlare di gossip e lo facciamo occupandoci di due personaggi molto seguiti e molto chiacchierati sui social ed in televisione. Stiamo parlando di Giulia Dell'Elisee di Vanka Mrazova che qualche ora fa hanno stupito tutti i loro fans con un loro post pubblicato sui social. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. L'amicizia di Giulia Dell'Elisee di Vanka Mrazova. Tutti gli amanti del gossip sicuramente ricorderanno come Cancelletto Giulia Dell'Elisee di Vanka Mrazova si sono conosciute e sono diventate buone amiche durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Le due giovani, infatti, hanno partecipato insieme qualche mese fa in qualità di concorrenti alla seconda edizione Vip del GF, piazzandosi rispettivamente quarta e terza. Oggi, a distanza di diversi mesi dai fatti sopraccitati, Giulia e di Vanka si frequentano ancora e sono ancora amiche. Per questa ragione ieri sono stati molti quelli che vedendo un post della Dell'Elisee hanno pensato che lei e di Vanka possano essere in procinto di annunciare un loro progetto a breve. Un nuovo progetto o niente di che?. Ieri pomeriggio tutti i fans di Giulia Dell'Elisee di Vanka Mrazova sono stati felici di vedere postato sui loro social network un video che le ritraeva insieme. Le due giovani infatti pare che ieri abbiano partecipato insieme in qualità di ospiti ad una nuova puntata del programma settimanale di Silvia Toffanini, verissimo. Le due ragazze comunque nelle clip pubblicate sui social sembrano davvero divertirsi un mondo insieme, sottolineando ancora di più l'affetto che le lega e la loro complicità. C'è da dire comunque che molti followers hanno anche pensato che l'ex corteggiatrice e la modella cieca molto probabilmente sono state invitate a verissimo per. Annunciare un qualche loro progetto che le accomuna è che forse presto le rivedrà insieme in televisione. Ovviamente ancora non si sa di preciso se questo possa essere vero o no, l'unica cosa che possiamo dire. E che le due giovani sicuramente racconteranno anche alla Toffanin come stanno procedendo le loro rispettive storie d'amore. Giulia Delellis infatti è ancora fidanzata con l'ex tronista Andrea Damante che la scelse quasi due anni fa al trono classico di Cancelletto Uomini e Donne. Ed Ivanka invece frequenta ancora Luca Onestini, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip ed anche lui ex tronista del programma di Maria De Filippi. Grazie a tutti. Grazie a tutti